Oroscopo branco oggi, giovedì 29 dicembre 2022. Le previsioni segno per segno oroscopo branco. Le previsioni dell'astrologo per la giornata di oggi oroscopo branco, cosa dicono le stelle nell'oroscopo di branco di oggi, giovedì 29 dicembre 2022? L'astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall'emittente radiofonica, rds, o altri siti online come il Corriere della città o solo donna. It. Di seguito le previsioni complete, presenti online, segno per segno dell'oroscopo di branco di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, ariete cari ariete, durante la giornata di oggi prestate attenzione. Possibile qualche polemica di troppo inamore. Ultimamente siete particolarmente suscettibili. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere delle proposte interessanti, valutate bene tutte le opzioni sul tavolo. Toro Cari amici del toro, secondo l'oroscopo di branco, oggi una persona carina potrebbe bussare alla vostra porta. È il momento di abbandonare ogni remora e lasciarsi andare ai sentimenti. Lavoro, i liberi professionisti potrebbero ottenere qualcosa in più. Gemelli Cari gemelli, cielo interessante per le coppie, progettate qualcosa di bello insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento di compiere passi azzardati, stringete i denti. Cancro Cari Cancro, belle queste stelle per l'amore, avete voglia di tornare a provare emozioni autentiche e quest'oggi potreste essere accontentati. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo delle riconferme. Leone Cari amici del leone, secondo l'oroscopo di branco di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, in amore siete un po' confusi. Anche se vi interessa una persona, è come se aveste paura di lasciarvi andare. Capitolo lavoro. Vorreste maggiori garanzie, siate pazienti. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali Vergine Cari Vergine, stelle positive per l'amore. Se vi interessa una persona cosa aspettate a farvi avanti? Per quanto riguarda il lavoro, non siate eccessivamente pignoli, potreste attirarvi le ire dei colleghi. Bilancia Cari Bilancia, durante la giornata di oggi 29 dicembre 2022, il vostro charm non passerà inosservato, e una persona che non rivedevate da tempo potrebbe risvegliare il vostro interesse. L'oroscopo di branco per il 2022 Scorpione Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di branco di oggi, cielo interessante, perché non organizzate una bella gita fuori porta con la vostra dolce metà. Lo spirito e il corpo ne usciranno rinvigoriti. Sagittario Cari Sagittario, le coppie di lunga data potrebbero anche decidere di mettere in un progetto importante mentre i single avranno maggiori occasioni d'incontro. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di delegare qualcosa, non potete avere sempre tutto sotto controllo. Capricorno Cari amici del Capricorno, finalmente anche in amore torna splendore il sereno. Questo vi dona una bella carica che non passerà certamente inosservata agli occhi di una persona speciale. Novità sul lavoro. Acquario Cari Acquario, secondo l'oroscopo di branco di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, potreste avere qualcosa da recriminare al partner, ultimamente siete piuttosto nervosi, ma non riversate i malumori nella coppia. Per quanto riguarda il lavoro, favorite le nuove collaborazioni. Pesci Cari pesci, periodo ideale per rimettere in moto il cuore. Se vi interessa una persona è giunto il momento di farsi avanti. Cos'è l'ascendente e come esse i calcola?